Quinta stagione a Monza, deviazione con il nastro, Rossini la tiene su Orduna, Perla, Paep, Ingape, Ejoece si è fatto molto male, il primo a soccorre non è lo stesso Ingape, questo sport è differente, però che botta è nuovo Ejoece. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!